E niente ragazzi, è incredibile, niente. Quello che sto dicendo, soprattutto il titolo di questo video, molti di voi potrebbero non capirlo e non perché siete stupidi. Perché è normale, perché io getto sempre uno sguardo nel futuro e quindi per certi di voi adesso questo commento che sto facendo potrebbe risultare anomalo, ambiguo. Il commento che ho appena fatto, ovvero il gol andava preso per forza e mi girano i coglioni non perché abbiamo perso, che non abbiamo perso, non perché abbiamo vinto eccetera eccetera, mi girano i coglioni perché abbiamo preso gol. Analizziamo un attimo la situazione, allora la partita è andata bene, hanno cominciato ovviamente forzando come fece il René. La differenza è che uno non abbiamo preso gol dopo dieci minuti e due per un'altra, per la seconda volta di fila, sono rimasti in dieci dopo venti minuti. Squadra che io ho sempre ritenuto scarsa, sia che giocasse contro di noi, contro la Roma, contro chiunque per me è sempre stata una squadra scarsa questa, mi dispiace dirlo ma è vero. Una squadra che secondo me in Italia sarebbe ultima, ma veramente ultima. E ci riduciamo ragazzi a un buon 3-0, meritato perché insomma li abbiamo messi lì, e poi non capisco perché arriviamo a voler addormentare le partite. L'altra squadra di Milano, quella che è andata fuori i calci di rigore, picchia picchia tutta la partita. Vedi con Lecce che ne ha fatti quattro, vedi con l'Atalanta che ne ha fatti quattro, Milan 2-3-0, vedi che la partita si sta mettendo bene e smettono di giocare. Io non capisco cosa, cosa, il motivo per cui noi non ci meritiamo una volta di vedere 4-5 gol all'attivo. Non c'è, è una cosa che non vediamo mai. Il Milano ha segnato 5 gol in una partita, negli ultimi 5 anni, una volta, con la Sampdoria l'anno scorso. Perché vabbè, poi c'è stato qualche rigore di mezzo, e poi non mi viene in mente altro, li ha presi da Sassuolo, li ha presi dal... Come si chiama? Dal... dall'Inter. Ma il Milan più di 4 gol non li fa mai. E oggi manco a 4 è arrivato in superiorità numerica, pensate un po' voi. Questo commento ve lo dico perché abbiamo giocato contro lo Slavia Praga, che con tutto rispetto è lo Slavia Praga. Che di gol te ne ha fatti 3 in 2 partite, ma tu... ma te ne ha fatti fare 7. Quando domani beccheremo il Liverpool, segnatevelo, o beccheremo il Leverkusen perché stasera il Carabag verrà distrutto, oppure una squadra forte. Io mi auguro di beccare il Marsiglia perché forse è l'unica squadra con cui ce la giochiamo, ma il resto è veramente tosto, ma anche il Benfica stesso. Non ho contro altri risultati, ma vedrete che saranno passati loro. Quando poi arriviamo domani, ripeto che uscirà una squadra molto forte, 7 gol! Non te li fa fare! Proprio col ditino, no! Tu non puoi arrivare 4 volte a tu per tu col portiere quando la mandi fuori, quando te la pare, quando gliela tiri addosso. Non te lo puoi permettere con quelle squadre lì. Come non te lo puoi permettere domenica col Verona, come non te lo puoi permettere domenica dopo, o da due sabati, quando cazzo è con il Lecce, con la Fiorentina. E non te lo puoi permettere neanche con il Lecce perché adesso arriveranno 3 partite di Serie A che ci metteranno molto alla prova. Adesso ve lo dico, Verona si deve salvare. La Fiorentina è in un buonissimo momento. Il Lecce è una squadra da non sottovalutare, seppur sia più forte in casa che fuori. Sono 3 avversari che io non sottovaluterei. Siccome in Italia il nostro non gioco è famoso... La mano sul fuoco, sui 9 punti, non ce la metterei su queste prossime 3 partite. Ve lo dico, non ce la metterei la mano sul fuoco. Io vorrei tanto farli 9 punti, vorrei tanto farli, ma... La vedo molto dura. La vedo molto 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 dura di fare 9 punti. Me lo auguro. Ma la vedo anzi, impossibile. Tornando al discorso di prima, sto facendo troppe digressioni, chiedo scusa. T'hanno fatto 3 gol, ma ti hanno fatti fare anche 7. Secondo voi, tutte le altre squadre che sono passate ai quarti. Il Liverpool, il Leverkusen, forse anche in Marsiglia stesso, ve li fanno fare 7 gol. Tito, 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 non ve li fanno fare 7 gol. Mi dispiace. Vorrei tanto, ma non te li fanno fare 7 gol. E se tu ne hai presi 3 dallo Slavia Praga, 1 va bene, 2 ci sta, 1 a partita. Ma 3 è grave. 3 è grave, ragazzi. 3 è grave in ottica futura, perché potevamo averne anche presi, potevamo anche finire 3 a 2 per loro stasera. 7 a 5 il totale. 6 a 5 il totale. Andava bene lo stesso, con un ordimento di culo, ma... Sti cazzi. Poiché ne abbiamo presi 3 da René e 3 da loro. Secondo voi, un Liverpool della situazione, quanti te ne fa? Quanti te ne fa un Leverkusen che sta facendo le buche nel campionato tedesco? Ed è praticamente il finale di Coppa di Germania. Quante ve ne fa? Tanti. Perché se appicchiamo le tasse attenzioni difensive che abbiamo avuto in queste due partite, contro avversari, sulla carta, molto più forti. Ragazzi, veramente, chiudiamo qua la situazione. Chiudiamo qua tutto. Chiudiamo qua tutto. Io non so che devi, ragazzi. La prestazione stasera è stata anche buona, perché alla fine il Mian non aveva niente da chiedere. Ha fatto 3 gol in 10 minuti. Ha fatto quello che voleva. Poi, quelli sono affacciati alla porta all'inizio e a fine partita. A fine partita il gol l'hanno messo. Però rimane un gol che si può evitare di prendere, pur quanto rimanga un bel gol. E io mi auguro, e io voglio con tutto me stesso, che questa cosa venga smentita. Io mi auguro di contare un avversario forte e di passare. Come non si sa ma di passare. Richiesta veramente difficile. Prendete in atto. Tornando alla partita, ragazzi, una partita così... Che racconto nel post partita? Arriviamo con un 4 a 2. Rimangono in 10 dopo 20 minuti un'altra volta. Non raddoppiano, non marcano, non coprono, non fanno niente. C'hanno i terzini che sono affanculo e che devo commentare su sta partita. Cioè, veramente, non dico che è un amichevole, ma veramente pareva di giocare contro una squadra di serie B, di serie C. Io porto sempre rispetto agli avversari, però se una squadra è scarsa, va anche detto. Cioè, niente di particolare. Questi erano scarsi. Potevamo farne 2-3 in più, potevano farne un paio o meno loro. È andata così e testa a Domenica col Verona. Domenica col Verona, ragazzi, sarà non dura. Di più. E ve ne rendrete conto. Domani mattina è la reaction, ragazzi. Prima di partire per Londra, devo fare tutto il video. E ci vediamo. Alla prossima. Lasciate like e iscrivetevi tutto quanto al canale, che a me fa molto comodo. Ci vediamo. Alla prossima. Alla prossima.